Ciao a tutti oggi prepareremo il succo di pera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono pere tagliata a pezzetti, acqua, zucchero di canna e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale gli ingredienti, iniziamo con la pera, zucco di limone, lo zucchero di canna e l'acqua. Facciamo cuocere per 15 minuti. 100 gradi, velocità 4. Adesso andiamo a frullare il tutto per un minuto a velocità 10. Adesso abbiamo terminato andiamo a verificare la consistenza del nostro succo di pera. Lo verifichiamo col cucchiaio, cucchiaino. Se il succo di pera dovesse risultare molto densa potrete aggiungere un po' d'acqua e mescolarlo per altri 30 secondi. Lasciamolo raffreddare, dopodiché lo trasferiremo in un contenitore di vetro e qualora non venisse consumato subito può essere conservato in frigo per 3-4 giorni. Succo di pera. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti.